Caldo record, lavoratori e arrischio. Troppi malori in fabbrica. La denuncia del segretario regionale Spina tocca alla regione e dice attivare sistemi di monitoraggio. Il sindacato pone anche la questione dei rider e di che opera sulle piattaforme e mezzi di trasporto. La CGL ha avuto un incontro interlocutorio col governo nel prossimo Sarell 24 con gli altri sindacati e le altre parti in causa, ma come ci dice Franco Rolandi, segretario regionale CGL Abruzzo e Molise, il caldo non è più un'emergenza. Devono essere trovate soluzioni definitive. Sì, noi stiamo agendo su più fronti, non soltanto a livello istituzionale, come diceva lei, con governo e regione, ma anche nei confronti delle stesse imprese. A livello istituzionale si registra un incontro che c'è stato due giorni fa con il Ministero del Lavoro e anche con IMSS, INEL e altri enti preposti. Però è un incontro che non ci ha soddisfatti perché bisogna ormai rendersi conto che questa è diventata un'emergenza strutturale. Quindi noi abbiamo bisogno di interventi strutturali e non più di interventi emergenziali, perché questa situazione di caldo estremo noi ormai lo stiamo registrando da diversi anni e con l'emergenza climatica in atto è un fenomeno che sarà sempre più ricorrente. Quindi noi abbiamo bisogno di interventi strutturali. Quello che abbiamo chiesto al governo, va bene l'estensione della cassa integrazione, va bene l'estensione dello smart working, ma il governo deve sapere che esistono attività lavorative che sono incompatibili sia con la cassa integrazione, sono incompatibili anche con lo smart working. Ci sono attività lavorative che operano a ciclo continuo, penso alle fabbriche, penso ai lavoratori edili, penso ai lavoratori che operano nel settore dei trasporti e che devono garantire i servizi pubblici essenziali e che non possono fermarsi. Quindi abbiamo bisogno di provvedimenti che noi chiediamo anche alle imprese. Quindi attraverso l'RSPP, che è la figura obbligatoria di cui si deve dotare ogni impresa, ossia il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e quindi invitiamo tutti i delegati sindacali e i lavoratori a rivolgersi a questa figura obbligatoria presente nell'impresa affinché verifichi se ci sono effettivamente le condizioni di sicurezza. Se la temperatura percepita, non la temperatura effettiva, quella percepita supera i 35 gradi, occorre intervenire così come prevede il testo unico sulla sicurezza e l'articolo 44, per il quale noi chiediamo la piena attuazione. Interventi di che tipo, ad esempio? Ma interventi possono essere di diversa natura. Laddove è possibile si può rimodulare l'orario di lavoro, prevedere la sospensione negli orari in cui si registra il maggior calore, quindi prevedere con le organizzazioni sindacali di rimodulare l'orario di lavoro, di aumentare le pause, di consentire ai lavoratori di poter operare in condizioni climatizzate, laddove è possibile o comunque con situazioni più favorevoli, e prevedere anche la possibilità di dotare i lavoratori di bottigliette di acqua fresca per potersi refrigerare sistematicamente.